Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1, coda segnalata in direzione Roma tra Aglio e Barberino del Mugello per traffico intenso. Chiuso il tratto della panoramica tra la variante di Valico e Aglio per lavori. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per un senso unico alternato tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli. Sulla FIPILI fare attenzione per una perdita di carico avvenuta tra centro intermodale est e il raccordo per la 12 in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia, chiusa l'entrata e l'uscita di Rio Torto in direzione Genova. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!